Come è stato un'ambiente di Bologna? I maestri italiani e anche dall'estero sul loro strumento è una possibilità eccezionale e poi in questo posto storico, mezzo a Bologna, che è la città della cultura musicale già da secoli, è proprio una capitale mondiale della cultura musicale. Per un studente partecipare a questi masterclass del programma solo è un'occasione unica di passare una giornata nel gran apertorio dello strumento insieme ad altri giovani studenti. E dunque di analizzare più in profondità questi pezzi, sfruttando anche, ascoltando gli altri e suonando per se stesso, per avere i consigli in diretto. E poi dell'occasione favolosa di suonare in sala Mozart con la sua acustica, con una sala concerti dove si può anche lavorare sulla situazione del concerto. Sono delle cose che non succedono tanto spesso nel corso dei studi normali, dunque è un'opportunità che l'Accademia Filamonica di Bologna offre che è molto speciale, molto particolare per un studente. Grazie a tutti.